Il contatore elettronico Open Meter è un elemento di punta della nuova strategia di Enel Open Power. Questa grande innovazione consentirà alle famiglie italiane di poter avere una maggiore consapevolezza dei consumi e quindi un risparmio energetico. I nuovi laser di elettroni liberi come Fermi sono nuove macchine luce disegnate specificatamente per lo studio di processi estremamente rapidi. Abbiamo già avuto migliaia di utenti da 45 diversi paesi che da tutto il mondo vengono a utilizzare questa nuova infrastruttura. L'intervento di Bay è stato fondamentale per la nostra azienda perché ci ha permesso di recuperare il prodotto perso durante la scossa e quindi di aiutare tutto quello che era la filiera della nostra produzione, a partire dall'azienda agricola che produce latte fino a arrivare alla grande distribuzione. Alla Bay miglioriamo la qualità della vita ogni giorno. Alla Bay miglioriamo la qualità ogni giorno. Alla Bay miglioriano Grazie a tutti